Qualche lieve scossa di terremoto si è sentita in città, in molte zone, soprattutto ai piani alti dei palazzi, da San Luca in via Turati, in centro storico in via Colaiani e fino a San Cataldo. Sono state due scosse ondulatorie di pochi secondi alle 21 e 27 circa. L'epicentro è stato nel Ragusano, la scossa di magnetuto 4.4 a 30 chilometri di profondità nel mare del Golfo di Acate. Qualche calcinaccio caduto ed un palazzo lesionato a Gela, tanta paura per tutti che si sono riversati per strada. Non ci sono stati danni accoso a persone.